ciao ciao ragazzi spero che sia tutto ok che la vostra estate stia proseguendo nel migliore dei modi è un po di tempo che non realizzo filmati diciamo di stampo didattico come questo ma purtroppo il tempo è stato un po tiranno nelle ultime nelle ultime settimane ho avuto diversi impegni soprattutto a livello appunto di insegnamento livello didattico e ciò nonostante volevo ritagliarmi comunque cinque minuti per condividere con voi una tematica molto molto importante in tutta la mia esperienza come docente di saxofono jazz ho sempre riscontrato puntualmente degli esempi di questa condotta di questo di questa forma pensiero che personalmente non trovo assolutamente costruttiva e pertinente per chiunque abbia l'ambizione di effettuare un percorso pienamente consapevole nell'ambito dell'improvvisazione quindi che sia necessariamente step by step e che si prefigga ogni obiettivo di volta in volta in maniera che il precedente sia stato assimilato con consapevolezza ecco mi riferisco proprio alla concezione improvvisativa proprio in termini di linguaggio improvvisativo infatti spesso e volentieri ho condiviso dei percorsi insomma di sviluppo strumentale con studenti che arrivavano diciamo ad interfacciarsi con me dopo aver percorso vari chilometri musicalmente parlando con delle forme pensiero assolutamente fuorvianti a mio modesto avviso ecco si intenda parlo dell'idea un po grossolana no di approcciarsi all'improvvisazione come un percorso per macro aree no per macro settori che possono essere assoggettabili ad una scala e che in queste aree pertanto di quella scala va bene un po tutto no a cosa mi riferisco per esempio non so un brano come prendiamo per esempio all the things you are non so che per noi contra altisti inizialmente si può dire gravity intorno alla tonalità di fa maggiore no quindi i primi 5 accordi le prime 5 battute bene o male appartengono sono assoggettabili diciamo così alla tonalità di fa maggiore quindi come si risolve di solito l'inghippo con questa forma di pensiero appunto dozzinale fuorviante no ok questo è fa maggiore quindi è tutta un'area di fa maggiore quindi la scala di fa maggiore va bene un po dappertutto qui suoniamola un po come ci pare come ci va e come ci pare piace insomma ok e quindi di conseguenza che cosa fa succedere questo modo di procedere quindi che cosa che cosa si fa in definitiva si passa completamente sopra alle singole opportunità offerte dall'accordo l'accordo che cambia ok siamo d'accordo che da un punto di vista di armonia funzionale siamo nell'area di fa maggiore ok ma questo non mi autorizza a passare come una sorta di caterpillar soprattutto le diciamo così le relazioni particolareggiate che i suoni consentiti ci mancherebbe altro della scala di fa maggiore detengono nei confronti di ogni singolo accordo e delle voci che lo compongono pertanto il percorso ideale da offrire ai miei studenti è sempre quello di partire ovviamente dall'accordo ovvero alla filosofia di pensiero verticale prettamente verticale di conseguenza l'improvvisatore o l'aspirante tale avrà modo di sperimentare la resa e gli effetti delle singole voci dell'accordo quindi si innesterà una sorta di mappa voglio dire interna di leggi causa effetto che lo strumentista avrà modo di sperimentare quindi si coglierà e si apprezzerà il sapore del settimo grado della nona del terzo grado del quinto grado e questo in un'ottica in uno scenario anche di air training eventualmente io lo consiglio come posso dire affrontabile diciamo in maniera disciplinata a sé stante air training dal mio punto di vista è molto importante soprattutto per costituire l'orecchio relativo dell'orecchio assoluto certamente si possono fare diverse cose ma nessuna di esse necessaria al suonare con gli altri e all'interagire in determinate cose certo alcune cose free completamente free con l'orecchio assoluto possono avere una leggibilità da parte dello strumentista più completa ma non serve assolutamente a nulla ve lo garantisco pertanto partendo dall'accordo io devo imparare a relazionarmi con le voci e le estensioni di quell'accordo ok di quello specifico accordo che alberga in quella in quella specifica battuta ok e io a questo punto preso assunto come punto di partenza questo comune substrato ok io avrò due modi almeno due modi di relazionarmi una strada diciamo così chiamiamola cromatica che è quella che maggiore ovviamente nel bebop pensiero quindi il bebop musicisti come charlie parker sonny steed e tanti già citati nei presenti filmati ovviamente prediligevano la strada verticale della cromaticità come preferibile cioè preferivano esplorare la quadriade ed eventuali annesse estensioni attraverso degli itinerari delle iniziative cromatiche dopodiché con l'avvento dell'arbope del modale in particolar modo diventa invece prevalente quella che potrebbe essere definibile come la fase invece orizzontale cioè mettere in comunicazione relazionarsi con le voci dell'accordo ma in maniera non più cromatica ma diatonica fatto sta che diventi poi prevalente l'una o l'altra strada certamente il solista consapevole di quel ciò che sta facendo deve chiaramente essere padrone di tutte le leggi causa effetto ok che contraddistinguono un'iniziativa artistica musicale improvvisata in quel dato momento su quella data armonia diversamente che cosa succede succede una serie di problemi che spaziano dal brancolare nel buio per mesi o anni addirittura nel non trovare mai nelle improvvisazioni un approccio soddisfacente che ci faccia davvero vivere con consapevolezza con pienezza l'esperienza improvvisativa non siamo assolutamente padroni di nulla la realtà cruda e semplice è questa non siamo padroni di nessun tipo di legame con l'accordo sottostante pertanto siamo in grado sì di alleggiare in maniera sopraelevata a delle macro aree ma noi in realtà di queste macro aree non sappiamo assolutamente nulla perché ci manca il rapporto con il singolo accordo sia esso poi prevalentemente cromatico diatonico per me l'improvvisatore ideale deve saperle padroneggiare entrambe poi sarà il personale mix interno proprio della dell'estetica che un musicista diciamo sente più naturale per la sua la sua natura scusate il gioco del gioco di parole che sente più spontanea insomma che sente più efficace a stabilire se il suo pensiero musicale si può definire ammesso che abbia senso stabilirlo prevalentemente verticale o cromatico oppure orizzontale o che dir si voglia diatonico ok quindi questo è assolutamente importante io devo padroneggiare entrambe le fasi entrambe le chiavi di lettura del mondo improvvisativo e poi ci sarà un mix interno che si origina sulla base di un gps che altro non è che non il nostro gusto pertanto il mio consiglio è di fare una verifica vostra interna personale se vi riconoscete in questa descrizione se anche voi avete nel vostro percorso musicale incontrato questa forma di pensiero o docenti che l'hanno condivisa con voi e beh sappiate che purtroppo questo è un peccato perché non state apprezzando realmente quelle che sono le effettive potenzialità del mondo dell'improvvisazione ovviamente si potrebbero dedicare video molto più ricchi e esaurienti all'argomento però vi saluto con un esempio molto semplice no se io mi trovo in do maggiore ok do mi sol devo innanzitutto nutrire un'esigenza in maniera voglio dire impulsiva e estemporanea no io mi trovo all'interno di un brano che ospita do delta o do measure do maggiore d'accordo dell'esempio che sto per sottoporvi mi viene voglia diciamo così di creare un itinerario che tocchi tre note dell'accordo per esempio do mi sol e io avrò due possibilità o mi relaziona questa appunto come dicevo cromaticamento in maniera diatonica ecco per esempio le possibilità potrebbero essere di questo tipo sono ripeto in do maggiore ok sentite come il mio fraseggio conserva in maniera e delinea in maniera molto chiara e netta tre centri intorno al quale io andrò a gravitare e questo il mio personale sistema di trattamento dei cromatismi che qualcuno avrà potuto eventualmente apprezzare nel metodo online che è stato commercializzato per un certo lasso di tempo da zero al bebop e quant'altro oppure affidarsi a un sistema invece prevalentemente orizzontale e quindi anche qui attraverso tutta una serie di metodi di lavoro mirato chiaramente guidato ci si può relazionare con queste tre semplicissime note dell'accordo con delle note della scala invece ok oppure ritorno al cromatico questa è la mia personale visione nel fraseggio ovvero anteporre a tutto la necessità all'urgenza l'assoluta importanza dell'avere le idee chiare di avere un gps che pone le sue fondamenta su una pratica di air training di un certo tipo sia essa strutturata parte oppure parte integrante di un percorso strumentale e avere sempre le idee chiare di dove vogliamo andare in secondo luogo vedremo come andare verso i nostri obiettivi diciamo così temporanei del momento improvvisato e questo è assolutamente fondamentale se vi riconoscete nella descrizione invece del fraseggio della scala che va bene un po dappertutto che tanto alla fine ci stanno tutte le note su tutti quegli accordi perché la tonalità bene o male è quella la verità è che purtroppo in questi casi siamo in mezzo a una strada non sappiamo nulla di quello che stiamo facendo facciamo una serie di tentativi e uno ogni tanto ci azzecchiamo qualcosa e ci soddisfa ok in realtà l'improvvisatore è sempre padrone del proprio destino e questo destino si origina sulla base anche di imprevisti di situazioni piacevolmente imprevedibili dell'improvvisazione ma il timone è sempre saldamente nelle nostre mani io vi ringrazio vi saluto con grande affetto e vi auguro un buon proseguimento di estate e come sempre buon sax a tutti ciao ciao ciao